C'è una cosa che ti capita una volta nella vita, devi godertela al massimo. Che cosa mi è andata? Che cosa è venuto meno? Come ha detto prima Laura, ovviamente un po' di sintonia manca. Io la conosco molto bene fuori dal campo, però effettivamente in campo abbiamo solo giocato un giovanile insieme. Quindi ci sono tante dinamiche che stiamo scoprendo punto dopo punto e partita dopo partita. Quindi poi lei è una giocatrice di difesa come me e sta ricoprendo un ruolo che non è il suo. Quindi veramente stiamo facendo il possibile. Penso che l'abbiamo fatto anche egregiamente stasera e possiamo solo migliorare. Quindi con la grinta io penso che possiamo andare avanti. Non so fino a dove ma dai, dobbiamo crederci.